Salve a tutti maledetti, oggi parliamo di un qualcosa che ultimamente è esploso su Facebook e su tutti sti cazzo di social network, che fanno tanto bene al marketing e ci fanno fare anche tante grasse risate, diciamocelo, di cosa si parla, ma del nostro amico Putin naturalmente. Un piccolo ragazzotto di un metro e cinquanta che ha preso il posto di Chuck Norris per quel che riguarda la potenza, John Cena tra i mini video e Nyan Cat per le gif animate. Come ho già scritto, beh, Faride, per carità, come macchietta funziona perfettamente, per carità, le gif su di lui, come ho detto, sono anche divertenti, me le vedo e mi ci diverto, per carità, le sue espressioni facciali sono inconsapevolmente hilari, ce ne sono davvero certe spassose, per carità. Ma quanto deve esservi entrato dentro il culo, il vostro cervello, per arrivare alla conclusione che uno come Vladimir Putin possa essere il salvatore della patria, il salvatore dell'Europa, il salvatore che può contrastare coi cattivoni dell'Isis? Ma lui è più forte, super Putin, quanto state male. Boris Nemkov era un oppositore di Vladimir Putin, muore all'età di 55 anni in un attentato con armi da fuoco per le strade di Mosca, pare da sicari mandati da un nanetto russo. Vladimir Karamurza, giornalista anti-Putin, curiosamente avverenato dopo che ha diffuso un film molto critico nei confronti del fedelissimo di Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov. E la Crimea invasa da 16.000 soldati russi. Ah, ricordiamo, la Repubblica Autonoma di Crimea, perché sapete, c'era la popolazione di lingua russa. Oppure vogliamo parlare di tutte quelle persone fuggite dalla Russia negli ultimi anni, di Kasparov, uno dei tanti, il famoso campione di scacchi fuggito perché, parole sue, in Russia c'è la dittatura. Qual è il vostro problema? Davvero? Venite qui, sdraiatevi sul lettino e ditemi. Possibile che avete questo cazzo di bisogno inconscio di un dittatore? Che faccia tutto per voi? Avete una vita così triste e vuota da doverla riempire con il bisogno del seguire un'altra persona, delegare il vostro cervello a chiunque altro, chiunque faccia la voce grossa, perché siete dei poveracci, perché tali siete? Chiunque, chiunque voglia una dittatura è un poveraccio, mi dispiace. E chiunque davvero pensa che una persona come Putin sia un grande presidente è un poveraccio, come quel pezzente di Matteo Salvini che è andato a Strasburgo con la maglietta di Putin, piccolo sciacalletto. Dici, è stato eletto? Sì, come Hitler, come Mussolini, no? La Russia è andata alle urne in città presidiate da migliaia di agenti, chissà chi avrebbe vinto, chissà il dittatore, presidente di una nazione controllata militarmente. E voi gli state dando davvero del credito? Solamente perché è una macchietta alla Chuck Norris, grazie a democrazia, che nell'era del pensiero condiviso sui social, manderai queste persone a votare alle prossime elezioni, magari per il nuovo fenomeno sociale del net, magari Putin, magari Norman Bates, magari di pre. Bah, bella a tutti, statemi discretamente bene. Il vostro, di Klaib. Il vostro, di Klaib.